buongiorno buon sabato a tutti giornata bellissima aria caldissima buongiorno nemodori buongiorno allora siamo usciti ci stiamo uscendo in verità si adesso mettiamo sulla canzone stiamo andando a fare spesa voglio andare al panorama perché dentro panorama c'è anche batta e voglio prendere dei sandalini a fede perché fede ancora usa le scarpe chiuse e voglio andare a vedere se ci sono dei sandalini la e faccio spesa prendo due o tre cosine se riesco facciamo anche un giro nei giochi quelli nel giostre per fede facciamo uno due giri e poi veniamo a casa e faccio uno svuota spesa sono chiusi i giochi fede adesso cosa facciamo cosa facciamo adesso che i giochi sono chiusi andiamo a vedere se troviamo i sandali andiamo e e non ci sono il tasto mi ha fatto un pochino di stesa Questi sono buonissimi All'oliva All'olio Sempre al sesamo Questi sono buonissimi Anche quelli da ketchup Allora siamo tornati a casa Siamo andati a far presa al panorama Adesso metto sull'acqua Perché è già mezzogiorno e venti Metto sull'acqua e dopo vi faccio vedere le cose che ho preso Allora Ho preso le tagliatelle Della barilla Che faccio le tagliatelle con funghi Poi ho preso Un pezzo di gnocco con la cipolla Due pezzi di gnocco Normali Il pane per stasera Poi ho preso delle cosine per fare da vestire Poi vi farò un altro video Ho preso le patate novelle Le soffilette Questo sugo ai funghi porcini Che a noi piace un sacco E le faccio con le tagliatelle adesso Lo yogurt A fede Il latte Questa frittella qua I ciuccetti I ciucciflizzi li volevo a fede Poi Tre pacchi di palmolive E le saponette Un altro yogurt Un altro yogurt Un altro yogurt Questo sugo della bifi Suggo Caccio E pepe Io mangio questo Oppure Questo sempre di rana Taratufo nero Sono indecisa Poi questa Insalata Gustosa Con pomodorini E noci Questa sera I funghi Questi qua Freschi Da mettere in mezzo All'insalata E questa Questa tagliata qua Da fare stasera Per Lorenzo E niente Questa è La mia spesa E là Vi dico Ci sono delle cosine per fede Poi ve le farò vedere In un altro video O più tardi Adesso vedremo Adesso Faccio da mangiare Buonasera Allora Uscita adesso Dal lavoro Vado A casa A fare La tagliata A mio marito Con le patate Io stasera Mangio Quell'insalata Con noci E pomodorini Che ho preso Alessi lunga Fede Gli facciamo la pasta Perché Fede La carne Non ne vuole sapere Neanche mezza E poi stasera Siamo in casa Non so se ne va a prendere Un gelatino Ma non penso Perché non ho tanta voglia Di uscire Con questo caldo Oggi sembrava che Doveva venire Il diluvio Universale Invece ha fatto Tre gocce Almeno qua A moda in acqua Dove Sassuolo Insomma E Ma invece Insomma Neanche un pochino Di acqua All'interno Quindi A Reggio Mi hanno detto Che ha fatto Un casino Che ha piovuto Tantissimo E niente Vado a cucinare E ci vediamo Con La tagliata E le patate Com'è? Com'è? Allora Ma fai io Sta mangiuta Quando sono armati C'era l'infermiera Che non stava Aspirando Così Quindi Era sveglio Poi ha cominciato A grandinare Ha fatto 20 minuti Buonasera Allora Abbiamo Cenato Come avete visto Ho fatto La tagliata Con le patate E io mi sono fatta Un'insalatona Mi sono fatta La doccia Messo il pigiama E adesso Vado a Ninna Non è tardissimo Sono le dieci e mezza Ma sono stanca Voglio andarmi A riposare Voglio andarmi Un po' A rilassarmi Con il libro Mi mando un gasovaggio E ci vediamo domani Ciao